Sì, io vorrei anche tornare per un attimo al discorso di partite passate, che abbiamo fatto tre partite molto pesante e io sono molto fiera di nostra squadra perché non è facile tornare dopo tre partite così, specialmente quello che hai detto di secondo set, che praticamente siamo riprese in momento giusto, in momento non facile. L'abbiamo giocato come una buona squadra, l'abbiamo messo su anche il nostro sistema che ha funzionato abbastanza bene, ma io credo che può funzionare ancora tanto meglio. Sì, c'è molto dispiacere, molto rammarico appunto per non essere riusciti a vincere quel set che sicuramente ci avrebbe dato una carica diversa visto che eravamo riusciti ad avere qualche vantaggio. Sicuramente abbiamo sprecato e regalato un po' noi in quel set e poi il terzo, per quanto abbiamo cercato di rimanere su, è stata dura.